Ed ecco un formicaio gigante al mio orto, ma poi mi metto ancora più dietro, più dietro, più dietro e così abbiamo una maggior visualizzazione. Ok, allora, possiamo prendere il centro di iphone. La sua fottola è la garganta, ma poi mi metto un'anno? Oggi. Il campo di riporto. possiamo preparare il centro che avete. Sarà una parte del centro. Anche viene dalla tavola. Più. Può. 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 e 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 da qui a qui saranno 70 cm prova sotto il diametro da qui da qui da qui a qui sono due di questi uno un un 60 cm allora questo formicaio gigante guardate quanto è bella c'ha qualche anno e ha una crescita continua rimane qui perché qua il trattore per lavorare non ci passa faccio tutto a mano vedete guardate quanto è bella il formicaio rende il terreno molto molto fertile vedete magnifico ma le formiche stanno dentro guardate come non è resa il terreno fertile molto fertile metrò il mio orto oggi dicembre del 24 tra il 12 e 10 adesso